Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Gli acclamati vincitori di Ballando con le stelle a quanto pare non hanno detto la verità Adesso però sarebbe emerso tutto, ecco cosa è successo ai due famosi protagonisti del fortunato dancing show di Rai 1 Perfino Milly Carlucci non sapeva come stanno davvero le cose Scopriamo cosa è accaduto alla coppia vincitrice.La coppia che lo scorso anno ha vinto Ballando con le stelle secondo qualcuno avrebbe mentito, probabilmente per ragioni di visibilità Ecco che cosa pensano alcuni del telespettatori che seguono il talent show, condotto dalla celebre Milly Carlucci Ballando con le stelle, la verità sui due vincitori.Come forse ricorderete, tra le coppie che lo scorso anno hanno partecipato a Ballando con le stelle c'è stata anche quella formata dalla bravissima cantante Arisa, che ha gareggiato in coppia con il campione di danza, Vito Coppola Tra i due sembrava essere nata una sintonia molto speciale.Sia Milly Carlucci, sia i giudici del talent show, sia tutto il pubblico di Rai 1 e perfino le altre coppie di ballerini e personaggi famosi in gara si sono resi conto della complicità sorta tra un ballo e l'altro di Ballando con le stelle, tra il ballerino o professionista e l'interprete della canzone italiana Per questa ragione nei mesi scorsi in tanti si sono chiesti spesso se effettivamente tra i due fosse nato un sentimento, o solo un semplice rapporto professionale, fatto di stima amicizia e affetto Una volta concluso il programma, i due, che sono riusciti ad aggiudicarsi il podio, hanno lasciato intendere che vi fosse del realmente tenero Adesso a quanto pare finalmente è venuta a galla tutta la verità sul rapporto che aveva lasciato molti dubbi L'incredibile confessione della nota cantante.Al settimanale mio, Vito Coppola avrebbe rilasciato ultimamente una speciale intervista, nel corso della quale avrebbe anche svelato quali sono i reali rapporti tra lui e Arisa A quanto pare la cantante e il suo insegnante di danza si sarebbero lasciati bene e adesso sarebbero diventati amici A riportare la notizia sul chiacchieratissimo flirt, tra il ballerino e la cantante, è stata la seguitissima influencer ed instagrammer Deyanira Marzano, la quale ha colto l'occasione per commentare e dire la sua sullo spinoso tema, ripostando l'articolo pubblicato Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video